Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di come potete guadagnare tramite il vostro smartphone attraverso questa applicazione che si chiama Feature Points. Prima di tutto voglio farvi un paio di premesse per togliervi subito i primi dubbi. Prima di tutto questa applicazione non è una truffa, è perfettamente funzionante, si ricevono pagamenti tramite un trasferimento di Paypal, quindi potete tranquillamente collegarla a una carta qualsiasi, post-pay, andare al bancomat e prelevare i vostri soldi, soldi veri, reali, fisici. Potete guadagnare inoltre senza investimento di denaro, quindi non dovete pagare niente per poter iniziare a guadagnare, dovete semplicemente investire il vostro tempo, cioè perdere del tempo per fare quello che vi dirò. La terza cosa che voglio dirvi è che ovviamente potete utilizzarlo a qualsiasi età, l'importante è che abbiate ovviamente un account di Paypal su cui ricevere i pagamenti. Non si tratta nemmeno di cifre ridicole, nel senso di cifre troppo basse, ma si tratta veramente di cifre assolutamente decenti, ecco. Adesso vedremo di che cifre si tratta. Allora, questa applicazione si chiama Feature Points, è un'applicazione anche abbastanza conosciuta, la potete trovare nei vostri App Store, dopo averla scaricata vi chiederà di registrarvi e vi chiederà anche un codice di riferimento. Se non ce l'avete non fa niente, altrimenti potete usare il codice 4D2C4F, che è un codice che vi permette di guadagnare da subito 50 punti e ogni punto in questa applicazione vale denaro, quindi vi consiglio di utilizzarlo. Se poi non vi va di utilizzarlo potete tranquillamente tralasciare questa fase. Dopodiché, dopo aver risposto a delle domande iniziali attraverso le quali guadagnerete qualche punto in più, l'applicazione, l'interfaccia sarà questa che vedete. Si compone di due sezioni, la sezione Surveys e la sezione Download Apps. La sezione Surveys dovete semplicemente rispondere a dei sondaggi. Molti sono sfiduciati riguardo all'argomento sondaggi perché, come è successo anche a me, quindi sono dei dubbi legittimi, praticamente non si guadagna molto. Perché? Non si guadagnano molti punti. Perché? Perché i sondaggi sono indirizzati a determinate categorie di persone. Quindi vi voglio dare una piccola dritta. Quando rispondete alle domande dei sondaggi, rispondete sempre come se foste vostra mamma o vostro papà. Oppure se siete una persona adulta che ha un lavoro, che ha una macchina o uno stipendio, potete tranquillamente rispondere come voi stessi, perché no? Ma se siete ancora nella fascia di età, diciamo, adolescenziali, vi avvicinate e siete sotto i 20 anni, potete utilizzare tranquillamente i dati di qualche vostro familiare. Questo è un modo che vi permette di guadagnare e ve lo assicuro molti punti in più. Scusate, mi è arrivata una notifica. La sezione principale di quest'app è invece la sezione Download Apps. Infatti questa applicazione è un'app che ci permette di guadagnare dei punti semplicemente scaricando delle applicazioni. Questi punti poi si convertono in denaro. Ok, quindi in questa sezione ogni giorno troverete delle applicazioni da scaricare. Alcune richiederanno dei passaggi, come ad esempio questa, completare il livello 4. Io sto procrastinando sinceramente sul farlo. Ma ogni giorno troverete delle applicazioni nuove che dovrete scaricare e utilizzare per almeno due minuti. Mi raccomando, almeno due minuti. Se c'è il tutorial dell'app, completate il tutorial. Registratevi anche all'app, anche perché ragazzi non costa niente. Fatelo. È un po' di sbattimento a livello mentale, cioè perdere tutto questo tempo ad utilizzare delle app. Ma ragazzi, voglio dire, per le cifre che si guadagnano, è assolutamente un ottimo compromesso. E io mi sto trovando veramente bene. Un'altra cosa che molti obiettano, su cui molti obiettano, è il fatto che non trovano molte applicazioni da scaricare durante il giorno. Ma una cosa che non fa nessuno è ritornare più e più volte durante la giornata all'interno dell'applicazione. Un'altra cosa su cui molti sbagliano è mollare da subito, ragazzi. Non posso dirvi quanto è importante che non mogliate, che continuate a scaricare sempre, che vi impegnate nel farlo. Perché? Perché è la costanza quella che premia. La differenza tra chi riesce a guadagnare con questi tipi di applicazioni, vi assicuro che questa non è l'unica applicazione in circolazione che permette di guadagnare scaricando app, la differenza tra chi guadagna e chi non guadagna è proprio la persistenza. Cioè la costanza nel tornare all'interno dell'applicazione più volte durante il giorno, più volte nell'arco della settimana, nell'arco del mese, continuare, non mollare, ragazzi. Perché? Perché si possono ottenere dei risultati che sono paragonabili a un lavoretto. E per un ragazzino di 14, 15, 17 anni, guadagnare queste cifre non facendo niente, che poi il cellulare lo utilizziamo tutti i giorni, per ore e ore al giorno, voglio dire è un ottimo compromesso, ragazzi. Quindi io vi incoraggio a essere costanti e se vi incoraggio a farle solo per il vostro bene. Dopodiché vi faccio vedere la sezione rewards per farvi vedere di che cifre si tratta. Allora voglio tornare un attimo indietro. Quasi po', scusate, sono un po' raffreddata. Si possono guadagnare le cosiddette gift cards, oppure nella sezione cash, che è la sezione che ci interessa, si va da 600 punti per un dollaro a 600.000 punti per 1.000 dollari. Ora qualcuno dirà 600.000 punti. Mamma mia, non ce la farò mai. Questo non è vero. Non vi fate scoraggiare, come ho già detto. Perché se l'avessi pensata così non avrei guadagnato un euro su questa applicazione. Invece la realtà dei fatti è che invece sono riuscita a guadagnare tramite queste applicazioni. E molti vi vorranno scoraggiare e vi diranno no, non lo fate, non si guadagna, si guadagnano 2 euro. Va bene, non ci provate. Vorrei dire che me li prendo io questi soldi. Perché è un metodo legittimo, funzionante, con tante cavolate che ci sono al giorno d'oggi su come guadagnare facile, fare i soldi facili. Ragazzi, veramente, certo non sarà facilissimo, facilissimo scaricare, ritornare all'interno dell'applicazione, utilizzare app che non ci interessano per due minuti. Però voglio dire, è, come ho già detto, un ottimo compromesso. Quindi, ritornando al punto di partenza, andate sul vostro App Store, scaricate Feature Points, registratevi, inserite il codice di riferimento 4D2C4F, guadagnate i vostri primi 50 punti, dopodiché iniziate a scaricare senza sosta e impegnatevi perché veramente, sì, queste cifre si possono guadagnare assolutamente ed è una cosa alla portata di tutti. Quindi, spero di avervi aiutato e ci vediamo nel prossimo video.